Non so bene come iniziare questo video, come spiegarvi quello che sto per fare perché io oggi vi voglio mostrare come attraverso l'editing digitale e io utilizzo Clip Studio Paint per i miei disegni digitali io sia riuscita a passare da un disegno come questo fatto con i copy markers, quindi a mano che di per sé è un disegno carino, però come vedete gli manca qualcosa perché manca uno sfondo, manca comunque qualcosa che lo completi e io ho pensato di creare questo effetto questo effetto qua che al di là della colorazione qui ho fatto due diverse colorazioni un po' sfumate faccia comunque questo effetto di riprendere il disegno lo stesso disegno ma ingrandito e trasparente alle spalle appunto del soggetto in questo modo il disegno assume un aspetto molto più simile tipo anche ad una copertina magari che ne so di un fumetto, di un manga comunque ha un altro effetto e siccome io tecnicamente non so bene come si chiami questo effetto quindi questa tecnica io vi faccio vedere come ho pensato io di farla e alla fine il risultato è riuscito e quindi adesso passo a farvi vedere come ho fatto questo iniziamo con un disegno molto semplice ovviamente e vado a esportarlo in formato jpeg poi dopo di che vado a importare l'immagine dentro a questa, la stessa e una volta importata la vado a ingrandire e la rendo anche più trasparente di modo che posso vedere poi quello che c'è sotto che è l'immagine quindi originaria e la posiziono come voglio l'effetto finale ecco qua, selezioniamo con questo selettore fantastico questa è veramente stata una scoperta l'ho scoperta proprio mentre cercavo di fare questa prova e non bisogna essere super super precisi perché poi si potrà andare a rifinire i bordi dopo però insomma cerchiamo di essere abbastanza precisi poi selezioniamo la nostra punto selezione togliamo la selezione sull'immagine e ci rimarrà solamente la parte che abbiamo selezionato e in questo modo poi riusciremo a creare appunto questo effetto agendo proprio anche sulla trasparenza selezionando poi l'icona nera della maschera di livello e selezionando il marker andando quindi a rifinire i bordi come vedete appunto si ridefinisce tutto perché ricompare appunto l'immagine che c'è sotto e che abbiamo appunto selezionato come vedete appunto che vi comparirebbe tutto con il basso appunto cancellare e voilà il nostro effetto è fatto e questo insomma è il risultato finale e quindi io sono riuscita a migliorando poi dopo anche i bordi a fare appunto questo effetto quindi io spero che il mio video vi sia stato utile soprattutto se sapete come si chiama questo effetto fatemelo sapere perché non sapendo appunto come si chiama non potendo quindi cercare un tutorial mi sono ingegnata in questo modo e io spero che il mio video vi sia utile e noi ci vediamo al prossimo ciao ciao